Allora, io ho il compito di aprire questa giornata, ringrazio Treccani Futura, ringrazio Human Technopole, ringrazio Cristian Raimo e Simone Arcani a chi ha organizzato questa giornata e devo soltanto introdurre il nostro primo ospite a cui ho pensato quando mi è stato detto di immaginare chi potesse presentare un percorso interessante che unisca le humanities alle scienze e alla tecnologia. E tra queste persone sicuramente c'è Angelo Bassi, quindi dirò soltanto due parole perché mi sembra importante ascoltarlo, perché il tema con cui cominciamo oggi è interessante, perché la meccanica quantistica di cui parla Angelo Bassi, che è fisico teorico, che ha diretto importanti programmi di ricerca sulla meccanica quantistica e che è anche collaboratore di Repubblica, quindi si occupa anche di divulgazione, come sappiamo è una scienza che ha delle radici filosofiche importanti, che si porta dietro ancora oggi delle questioni aperte o controverse o senz'altro delle tesi controintuitive. E sappiamo anche che forse l'ultima generazione di scienziati che avevano una formazione anche filosofica, quella appunto di Schrödinger, di Einstein, che contribuirono alla nascita della teoria, diede voce anche alle questioni non soltanto tecniche di quella teoria. Bassi si è occupato a lungo di una delle formulazioni alternative della meccanica quantistica, il modello di riduzione dinamica introdotto per la prima volta dal suo maestro Giancarlo Ghirardi e da altri, e quindi diciamo ha un piede nella ricerca puramente teorica e anche diciamo in questi aspetti filosofici, tra l'altro abbiamo anche scritto un libro insieme qualche anno fa. Però d'altra parte c'è un aspetto tecnologico, la computazione quantistica, i computer quantistici, l'entanglement che è il tema della presentazione di Bassi, è a metà fra questi due campi, cioè al tempo stesso è uno dei concetti, ce ne parlerà più controintuitivi, affascinanti ma problematici della meccanica quantistica, ma è anche la base di una nuova tecnologia e di ricerche aperte, dotate di applicazioni molto promettenti, a cui Bassi sta partecipando. Quindi io vi lascerei senz'altro la parola anche perché so che ha un tempo, diciamo, condizionato e grazie ancora. Grazie agli organizzatori per il grandissimo invito. Io mi scuso di non poter essere presente di persona, mi sarebbe piaciuto molto, ma gli impegni didattici mi impediscono di viaggiare molto in questo periodo, quindi di necessità virtù facciamo e sono felice di fare questa presentazione in remoto. E Paolo, prima Paolo Pecera ha toccato tutti i temi che io cercherò di presentare in questo mio intervento. Quindi ciò di cui parliamo è l'entanglement e più in generale la meccanica quantistica. Allora, qui ci vorrebbe un seminario solamente per tentare di spiegare cos'è la meccanica quantistica, quindi dovete un po' credermi, un po' accettare quello che vi dico in modo da poter andare un po' più avanti. La meccanica, allora, è un modo per vedere la differenza fondamentale tra la fisica classica e la fisica quantistica. La fisica classica è quella di Newton, quella che si impara al liceo e poi per chi segue i corsi di fisica un po' più in profondità all'università, è la fisica del punto materiale, le particelle che si muovono nello spazio, lungo traiettorie, che sono definite dalle equazioni di Newton. Questo è il concetto fondamentale, particelle che si muovono. E questo cosa comporta? Comporta che gli oggetti hanno sempre una posizione definita nello spazio, una cosa di cui non si parla quando si presenta la fisica di Newton, perché si dà per scontata e fa parte dell'esperienza comune. Noi siamo sempre da qualche parte e poi ci muoviamo. E questo è lo scopo, è la fisica, la dinamica, capire perché e come ci muoviamo. Nella meccanica quantistica invece tutto questo viene meno. Viene meno il concetto di particella, di oggetto, che è localizzato nello spazio, perché la sua descrizione non è più in termini di traiettorie, ma in termini di onde. La famosa funzione d'onda. E una delle caratteristiche, delle proprietà fondamentali di un'onda è appunto quella di non essere necessariamente localizzata nello spazio. Può esserlo in certi casi particolari, ma in genere l'onda, pensata alle onde del mare, l'esempio che richiamerò anche dopo, più tipico, le onde diffondono, le onde si rompono, possono attraversare un ostacolo da una parte e dall'altra, si ricombinano, interferiscono, hanno tutta una serie di proprietà che le particelle classiche non hanno. Quindi questo è il punto di partenza di tutta la discussione. A un sistema quantistico viene associata una funzione d'onda, prendiamola, pensiamo, con una certa approssimazione, non è del tutto vero, ma possiamo trascurare questo per gli scopi di oggi, ripeto, all'onda del mare, l'onda sonora, l'onda luminosa. Allora compare subito una domanda importante. Che cosa significa che un oggetto è descritto da un'onda? Ed era l'origine del dibattito, agli albori della meccanica quantistica, quel dibattito che era filosofico, come accennava Paolo Pecere prima, ed è rimasto tuttora, parte filosofico e antistico. In particolar modo, se l'onda che descrive l'oggetto ha un pezzo qui, è un pezzo là, tipico delle onde, è distribuita nello spazio. Che cosa significa che un sistema fisico è descritto da tale onda? Che si trova in tale stato, quella che viene chiamata una sovrapposizione, semplicemente o la somma di due termini, si dà il nome di principi di sovrapposizione. Cosa significa che un atomo è nello stato qui più là? Questa è la grande domanda su cui Einstein, Bohr e tutti i padri fondatori della meccanica quantistica li imbattevano, è la domanda che è tuttora una domanda attuale. Che poi Schrödinger rese più drammatica nel famoso esempio del gatto di Schrödinger, di cui forse alcuni di voi hanno sentito, è lo stesso discorso di prima, Schrödinger ha semplicemente drammatizzato la situazione portando l'esempio dal livello microscopico, una particella e un atomo, a livello macroscopico. La teoria lo prevede, la teoria prevede che queste onde si possano propagare dal micromondo quantistico al macromondo classico. Quindi se un atomo può essere qui più là, anche un gatto in linea di principio, sto parlando della teoria, non delle osservazioni, un gatto può essere, in base alla meccanica quantistica, qui più là Schrödinger aveva un po' il gusto del macabro e voleva un po' mettere il lettore di fronte al paradosso, il gatto vivo più morto, senza voler essere cruento contro l'animale. Cosa significa che un gatto può essere nella sovrapposizione, o qualunque oggetto macroscopico, nella sovrapposizione di stati che sono diversi? Che è un problema non solo di significato, è un problema anche perché è contrario alla nostra esperienza. Noi i gatti li vediamo sempre localizzati nello spazio, o se vogliamo sempre essere un po' macabri, li vediamo sempre o vivi o morti, non li vediamo mai nelle due situazioni contemporaneamente. Quindi la teoria pone una sfida, la teoria per motivi, per diverse ragioni, ci dice che dovremmo descrivere i sistemi attraverso le onde, non più attraverso le particelle, ma queste onde pongono un problema interpretativo. Allora, siamo all'inizio del Novecento e c'erano in particolar modo due posizioni che sono tuttora appena avancano, due posizioni che qui un po' brutalizzo e semplifico, in realtà l'argomento è molto più complesso, ma qui semplifichiamo la situazione, c'erano due posizioni. Una era quella di Einstein, di Schrödinger, di De Broglie e di altre ancora, ora che si può riassumere con il titolo di incompletezza. E cioè, in base a questa interpretazione, l'onda c'è, l'onda, però non rappresenta direttamente lo stato del sistema. È un po' come la probabilità, quando io lancio la monetina, testo a croce, non è che la moneta classica è nella sovrapposizione in qualche strano strato, è sempre testo a croce, sono io che non so. Quindi qui, insomma, ripeto, se sto semplificando molto un discorso di granule più articolato, la posizione di incompletezza è che la funzione d'onda, quell'onda di cui abbiamo parlato, non descrive direttamente le proprietà fondamentali del sistema. L'atomo è o qui o là. Si comporta come un atomo, come una materia dovrebbe comportarsi. È la funzione d'onda che non è qui o là, è qui più là per qualche motivo suo, ma non descrive tutta la storia dell'atomo. In particolar modo non descrive la posizione esatta che l'atomo comunque ha. Ecco perché è incompletezza. La funzione d'onda offre una descrizione importante, perché la meccanica quantistica è la teoria che funziona, ma incompleta. Non mi dice tutto sullo stato del sistema. Ripetiamo, possiamo avere in mente questa della monetina lanciata. La probabilità mi dice quello che posso dire, ma non mi dice tutto. La moneta sarà sempre testo a croce, se no io che non lo so. Dall'altra parte, invece, abbiamo la posizione della completezza, e cioè la funzione d'onda descrive tutto quello che c'è da sapere sullo stato di un sistema fisico. Questa è la posizione di Bohr e della scuola di Copenaghen. Se la funzione d'onda è in una sovrapposizione, è perché non c'è una posizione definita, descrivita dall'atomo, occupata dall'atomo. Non c'è un fatto oggettivo relativo alla posizione dell'atomo nello spazio. Non possiamo dire nulla. Questa posizione di completezza discende da, insomma, ci sono ragioni filosofiche che i filosofi possono spiegare meglio di me, ma sostanzialmente discende da una volontà di porre, loro dicono necessità, io direi una volontà, di porre un limite alla conoscenza umana, o di riconoscere, come, insomma, adesso qua si va in posizioni differenti, diciamo così, riconoscere un limite alla conoscenza umana. La conoscenza umana ha un limite intrinseco e quando un atomo si trovano in uno stato delocalizzato, qui più là, io non posso dire altro, a meno che chiaramente non faccia una misura, ma prima di fare un'esperienza di misura, un limite nella mia conoscenza, non posso affermare che l'atomo sia da qualche parte. E quindi la funzione d'onda è il massimo di cui io posso parlare, è il massimo della conoscenza che posso avere anche linea di principio sullo stato del sistema. Come vediamo, sono questioni profondamente filosofiche, io non sto presentando tutta la loro dignità, ma andiamo avanti comunque. E vedremo come esse permarranno come tali, ma poi di pian piano entrano anche il dominio proprio della fisca. Quindi completezza ed incompletezza. Allora, facciamo un salto, facciamo un momento, vi presento un giochetto, diciamolo così, un esperimento, un gioco mentale per spiegare perché come Einstein, nel corso dei suoi ragionamenti, insistette su questa incompletezza della meccanica quantistica. fatemi tornare indietro un secondo. Einstein aveva una posizione invece più, diciamo, più realista, più classica. Per lui gli oggetti si comportano in maniera normale, l'atomo è da qualche parte, si muove in qualche modo e se noi non riusciamo a descriverlo perché siamo noi incapaci di farlo, non perché c'è un limite fondamentale alla natura. Einstein cercò di articolare la sua argomentazione in più riprese e uno dei momenti chiavi fu l'anno del 1935 quando presentò il famoso esperimento, paradosso, che in realtà non è un paradosso, l'argomento EPR dal nome dei tre attori e per Einstein gli altri due autori sono Poldovsky e Rosen. E uno di chi parla di, chi mastica un po' l'entanglement della nuova località avrà sentito parlare dell'argomento del paradosso EPR. Ve lo presento appunto con un gioco. Abbiamo due personaggi, Alice e Bob, i quali vogliono diventare famosi e stanno diventando famosi con la seguente affermazione siamo telepatici. E come dimostrano di essere telepatici? Dico Alice e Bob perché sono abituati alle presentazioni inglesi ma lì c'è Bob. Perché come fanno a dimostrare di essere telepatici? Loro dicono fanno la seguente affermazione andiamo separati in due posti molto distanti Roma e New York per dirne una Milano e Trieste visto che mi stiamo a Milano io sono a Trieste arbitrariamente distanti chiudeteci in delle scatole e in delle cabine ermetiche un po' come che per chi ha memoria i telequiz di una volta quando venivano chiuse i concorrenti nelle cabine tipo cabine telefonica con la cuffia quindi ermetica è anche schermata da qualsiasi tipo di segnale e il pubblico voi siete il pubblico per esempio noi siamo il pubblico può controllare che non è possibile alcun tipo di comunicazione quindi non stanno barando da questo punto di vista e loro fanno la seguente affermazione allora il gioco può sembrare un po' stupido ma perché c'è la fisica dietro il necessità un po' dobbiamo presentarlo così loro dicono la seguente cosa il pubblico quindi ci sono due pubblici due parti del pubblico uno da uno con Alice da qualche parte uno con Bob da qualche altra parte e i due e i due spettatori e gli spettatori danno ad Alice e Bob delle carte in cui c'è indicato il numero uno due o tre sono carte tipo carte da gioco è la numero uno due o tre non tutte quante e il pubblico decide quale dare e il pubblico decide quando darle e in particolar modo il gioco diventa interessante se se l'atto di dare le carte avviene più o meno in contemporaneo da una parte e dall'altra ebbene Alice e Bob dicono noi segneremo su queste carte scriveremo una qui ho lasciato yes e no inglese ma è sì e no una S una N sì o no risponderemo anche qua non è particolarmente avvincente ma arriviamo al punto fondamentale e le restituiscono al pubblico quindi ci sono diversi round diverse ripetizioni del gioco il pubblico dà una carta sceglie il numero lo stesso diverso fa quello che vuole il pubblico ad Alice e Bob Alice e Bob rispondono restituiscono la carta con un sì e un no allora cosa succede? succede che a caso Alice e Bob rispondono con un sì o no apparentemente non c'è nulla di interessante ma a volte a volte concordano a volte non concordano a volte entrambi sì entrambi no uno sì o no però Alice e Bob fanno notare la seguente cosa ogni volta che il pubblico voi del pubblico ci date una carta con lo stesso numero noi risponderemo esattamente allo stesso modo daremo risposte perfettamente correlate e le daremo perché saremo telepatici perché siamo telepatici quindi voi fate quello che volete pubblico fate fate dateci le carte che volete ma al momento in cui avete deciso noi non lo sappiamo quando nel momento in cui avete deciso di darci una carta con lo stesso numero entrambe uno entrambe due entrambe tre noi infallibilmente risponderemo sì o no entrambi sì entrambi no allora qui ci vuole un attimo di riflessione qua perché ormai in questo mondo che è iperconnesso alla velocità della luce grazie alle telecomunicazioni la istantaneità pare quasi quotidiana che le cose avvengono istantaneamente io sto parlando e qui da Trieste a voi sembra che sto parlando istantaneamente mi sentite a Milano in realtà c'è un piccolo ritardo per il segnale che deve attraverso che deve viaggiare e viaggia al massimo alla velocità della luce da Trieste a Milano il tempo è breve ma un tempo esiste i segnali si propagano sempre a velocità finita da un posto al lato qui invece stiamo dicendo qualcosa che è molto importante ed è molto diverso da tutto questo che le carte possono essere date istantaneamente se il pubblico è capace quindi più veloce in maniera tale che non ci può essere un segnale che comunica la velocità della luce perché sono date istantaneamente e anche la risposta può venire istantaneamente non è in questo gioco ideale ed è sempre sì o no le correlazioni sono per quanto si può capire sono correlazioni istantanea a distanza e se ci pensate se provate a non avere a non usare il cellulare o non usare il computer come fate a comunicare con il vostro compagno di classe o siete in classe vicini o se siete lontani ce ne vuole di tempo dovete camminare e vedervi se non avete il cellulare avete il telefono non avete il computer se volete comunicare dovete parlarvi parlarvi direttamente all'orecchio e ci vuole tutto il tempo per arrivare per avvicinarsi qui invece questo non succede correlazioni istantanea a distanza questa è una cosa estremamente importante almeno per la fisica stiamo parlando di fisica alla fine della fiera ma poi con tutte le implicazioni concettuali e filosofiche siamo tutti connessi questo vorrebbe dire ci torcono su questo argomento ebbene allora scusatemi questo è l'esito del gioco qua c'è un esempio quindi qua ho disegnato otto round del gioco poi andrebbe avanti all'infinito e nelle due colonne di mezzo le scelte che il pubblico ha fatto per le carte nel primo caso Alice ha ricevuto una carta con il numero uno Bob la carta con il numero tre nel secondo caso entrambe la carta con il numero due nel terzo caso Alice il due Bob tre e così via poi nella terza copia a destra nella terza copia di colonne abbiamo le risposte che Alice e Bob e quello che vi dicevo è che quando come nelle round due, cinque, sei viene data la stessa carta con lo stesso numero una carta con lo stesso numero le risposte sono infallibilmente le stesse quindi il riassunto di quello che vi sta dicendo telepatica ebbene arriva Einstein allora che cosa abbiamo qui adesso quali sono i punti importanti Einstein dice non può esserci telepatia ricordiamoci che Einstein è stato il fondatore della relatività speciale della relatività generale il cui fondamento è proprio il principio di località nulla può essere comunicato istantaneamente a distanza tutto deve propagarsi lentamente o al massimo alla velocità della luce quindi l'assunto di Einstein non c'è telepatia Alice e Bob non possono essere telepatici quindi mi stanno fregando c'è un trucco e il trucco qual è? e lo scopa abbastanza facilmente Einstein si sono messi d'accordo prima cioè prima di iniziare il gioco Alice e Bob avevano allora in una visione pre-cellulare avevano due grandi libroni in una visione avevano tutto sul cellulare e offline non è che si parlano con il cellulare hanno caricato prima sul cellulare tutte le risposte che avrebbero dato poi i cellulari li hanno messi in modalità usa-air non comunicano tanto sono schermati ma ormai hanno già salvato prima di iniziare il gioco Alice e Bob si sono messi d'accordo che nel primo round se ricevono la carta con il numero 1 risponderanno sì se ricevono la carta con il numero 2 risponderanno sì se ricevono la carta con il numero 3 risponderanno no e così via qui è l'esempio nel secondo round Alice e Bob risponderanno no se ricevono la carta con il numero 1 sì con il numero 2 no con il numero 3 quindi hanno concordato tutte le risposte prima e quindi gioco forza che se voi se noi diamo ad Alice e Bob una carta con lo stesso numero daranno la stessa risposta perché l'hanno concordata prima di iniziare il gioco modo molto banale per svelare il trucco di Alice e Bob non possono essere telepatici non possono sentirsi e comunicare parlare pensare a distanza questa è l'incompletezza se noi la traduciamo in linguaggio fisico quello che Alice e Bob ci avevano detto non era tutta la storia c'era qualcosa che noi non conoscevamo la nostra conoscenza del gioco prima che arrivasse Einstein era incompleta questo è il famoso argomento EPR insistere che c'è Alice e Bob dimostrano queste correlazioni queste correlazioni sembrano non locali sembrano telepatiche insistere che non possono essere telepatiche e ci porta a concludere che le risposte esistevano a monte noi non le conoscevamo perché avevamo una conoscenza incompleta la richiesta di località implica l'incompletezza della teoria l'argomento EPR attenzione che qui ci vorrebbe un po' insomma studi più approfonditi di meccanica quantistica per apprezzare io cerco di farlo apprezzare comunque in questo mio breve intervento la Einstein e anche prima suggerisce quindi fa questo ragionamento logico cerca di portare il dibattito da ho ragione io ho ragione tu prima era Einstein Bohr la teoria è incompleta no è completa si è completa no è incompleta si è incompleta no è incompleta Einstein fa un salto concettuale se vuoi che la teoria sia locale deve essere incompleta cerca di fare questo salto concettuale vengono usati gli stati intangli stati intangli codificano queste correlazioni siamo nel 1935 il salto l'altro salto concettuale importante ancora più importante di quello di Einstein in ultima analisi però è stato importante che Einstein avesse sviluppato questa argomentazione avviene da Bell Bell che cosa fa? fa una cosa che a nessun altro siamo negli anni 60 sono passati 30 anni fa una cosa che a nessun altro era passato per la testa che a posteriori pare banale ma solo lui ci ha pensato Einstein dice un attimino supponiamo che Bell dice supponiamo che Einstein abbia ragione che si sono messi d'accordo prima e analizziamo la statistica di tutti gli esiti non fermiamoci a stupirci che danno lo stesso risultato quando ricevono una carta con lo stesso numero ma andiamo a vedere cosa succede anche quando come rispondono quando danno carte con numeri diversi in particolar modo se si sono messi d'accordo prima che cosa succede? ho cercato di spiegarmi in questa tabella nel primo round nel primo round Alice e Bob si erano messe d'accordo che avrebbero risposto sì con la carta numero uno no sì con la carta numero due e no con la carta numero tre quindi cosa significa? che ci sono nove possibilità chiaramente tutti e due riceveranno la carta con numero uno con numero due con numero tre Alice numero uno Bob numero due bla 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 tre per tre nove possibilità e qui cosa vediamo? che se entrambi ricevono la carta con numero uno daranno una daranno una risposta che è in accordo o entrambi sì o entrambi no A sta per accordo danno lo stesso tipo di risposta se entrambi ricevono la carta con numero due daranno una risposta che è in accordo e anche con numero tre una risposta che è in accordo ma attenzione anche se Alice riceve una carta con numero uno e Bob una carta con numero due comunque daranno la stessa risposta che è sì solamente nel caso in cui Alice riceve la carta con numero uno e Bob riceve la carta con numero tre daranno risposte che sono in disaccordo una con l'altra e questo ragionamento si può farlo per tutte le possibilità il risultato finale che si vede da questa tabella ma vale sempre è che il numero di accordi è superiore al numero di disaccordi nella tabella ci sono cinque casi in cui c'è accordo e quattro casi in cui c'è disaccordo quindi la probabilità che Alice e Bob il numero di volte che Alice e Bob danno una risposta che entrambe sì entrambe no deve essere superiore al numero di disaccordi il numero di volte in cui due i due danno una risposta che è in disaccordo questa è una delle famose ma famose un po' perché conosce l'argomento disuguaglianza di una cosa più grande dell'altra bene andiamo a vedere il risultato andiamo a vedere quindi non fermiamoci solamente alle righe gialle quando ricevono la stessa carta ma guardiamo tutta la statistica e cosa vediamo che pensiamo che poi la tabella è lunga piacere io l'ho fermata a otto casi ma può essere lunga piacere e cosa vediamo che non è così il numero di accordi è sostanzialmente uguale al numero di disaccordi la disuguaglianza di Bell è violata e questo è uno dei risultati più importanti dal punto di vista concettuale della fisica del novecento significa la seguente cosa il ragionamento era se abbiamo partito dalla località l'ipotesi era la località e quello ci va Einstein località in completezza le risposte esistevano già questo è Einstein Poldovsky Rose Bell dice va bene continuiamo in completezza disuguaglianze quindi il risultato netto è che la non località implica le disuguaglianze le famose disuguaglianze la località scusate la località se la fisica è locale poi Einstein poi allora Bell inizialmente la presentò per la meccanica quantissima poi si possono banalmente generalizzare per qualunque teoria fisica se la materia fisica è locale se non esiste questa telepatia se non esiste questa correlazione a distanza devono valere queste disuguaglianze disuguaglianze matematiche e quindi qua sta avvenendo quello che vi dicevo prima sta avvenendo il discorso che era era molto di carattere filosofico e completezza incompletenza che cosa posso dire della natura cosa non posso dire quello che poi Paoli con in modo molto dispregiativo bollò le argomentazioni di Einstein equivalgono a chiedersi quanti angeli stiano sulla capocchia di un spillo in questa tendenza dei fisici a bollare le questioni filosofiche come irrilevanti per la fisica con atteggiamento profondamente sbagliato queste idee filosofiche qui che inizialmente erano molto filosofiche sono state trasformate da Bell in una disuguaglianza matematica questo è uno dei grandi meriti di Bell disuguaglianza matematica che non è matematica astratta ma una disuguaglianza che può essere verificata sperimentalmente l'esperimento è stato fatto negli anni 80 diverse persone lo dirò adesso da Aspect principalmente ma siamo non solo lui e è stato verificato che le disuguaglianze sono violate quindi non solo la teoria ma anche l'esperimento viola le disuguaglianze la natura non locale Alice e Bob avevano ragione sono telepratici e infatti non è non è esagerato dire che Bell è stato il primo in un certo senso a dimostrare che Einstein aveva torto allora Einstein ha avuto torto nella vita diverse volte anche lui lo ha riconosciuto ma tipicamente per dettagli chiamiamolo così uno era dettagli anche importanti costante cosmologica in realtà generale tutti sbagliano anche Einstein è sbagliato però Einstein l'ha beccata quasi sempre per le questioni fondamentali in cui lui era un campione su questo invece lui non si aspettava assolutamente risultato il mondo è un mondo non locale ed è uno dei grandissimi questioni della fisica della fisica della fisica generale e della fisica moderna in particolare ed è questa anche ho visto che ormai insomma parliamo anche così di attualità il senso del premio Nobel per la fisica di quest'anno questi tre signori Aspect da sinistra a destra Aspect Clouser e Zeilinger hanno vinto il premio Nobel perché hanno vinto il premio Nobel qui ho lasciato la dicitura in inglese quella che potete leggere sul sito del premio Nobel per esperimenti con fotoni entangled allora io ho parlato di Alice e Bob nel mio giochetto poi chi fa gli esperimenti in laboratorio non c'ha due persone chiaramente ma due sistemi fisici microscopici sono fotoni sono due fotoni quindi con fotoni che sono in uno stato in questo famoso stato entangled è quello che genera queste correlazioni non locali a distanza questo è il senso profondo dell'entangelo di questa parola strana che viene dall'inglese che si chiama intreccio garbuglio sono intrecciati perché sono i loro destini sono incrociati ciò che fa uno corrisponde a ciò che fa l'altro non sono separati questa è l'idea di fondo sono correlati a distanza quindi con fotoni entangled fotoni correlati che hanno stabilito gli esperimenti hanno stabilito la violazione delle disguelanze dei bellici disguelanze ce n'è più di una la sostanza è sempre la stessa di cui vi ho parlato prima e poi quindi aprendo la strada alla scienza dell'informazione quantistica di cui vi dirò di cui vi dirò adesso quindi la natura è non locale attenzione che questa qui insomma per chi non è passato di fisico uno prende l'altro va bene locale pace ma per chi è invece appassionato di queste un po' di queste cose questo è estremamente importante perché vuol dire che non siamo isolati e possiamo solamente influenzare il mondo circostante poi questa influenza si propaga al massimo alla velocità della luce ma siamo in qualche modo ci sono degli strani collegamenti questa non località pone un problema nella fisica in relazione alla relatività ristretta e poi la relatività generale dove ci dice che nulla può andare più buce della luce il conflitto non è un conflitto diretto perché qui scusate una parentesi un po' tecnica ma la faccio questa non località non implica che io posso comunicare istantaneamente a distanza buttiamo via cellulari telepatia nel senso dei film di fantascienza che parliamo o possiamo trasmettere il pensiero istantaneamente da un'altra parte non è questo non si può comunicare istantaneamente a distanza quindi in un certo senso non c'è una violazione una contraddizione diretta con la relatività speciale col principio di località però c'è questa non località ci sono queste misteriose correlazioni a distanza che sono superluminali che sfidano lo spazio e il tempo e se vogliamo andare un po' oltre la fisica e tentare una bozza con timidezza un po' lo dico una bozza di visione del mondo che si può proporre che nasce dalla fisica quantistica è proprio questo olismo di foglio non esistono in un senso molto profondo ma in un senso anche molto delicato e ancora tutto da capire siamo tutti connessi l'unico gli altri lo stato lo stato fisico che descriverebbe l'universo è uno stato che spaventosamente correlato dove tutto è correlato con tutti poi per qualche ragione ben chiare emerge l'idea di un sistema fisico se volete dirlo in termini più filosofici l'idea di individualità ma non è a livello fondamentale è un concetto emergente e da fisico emerge in un modo molto preciso però a livello fondamentale tutto è connesso bene mi avvio alla seconda e ultima parte quindi spero un po' di aver reso giustizia al titolo di questo intervento dalla filosofia della fisica alle frontiere dell'antanga del quantistico abbiamo parlato come sono negli anni 20 anni 40 Einstein Bohr gli aspetti più concettuali filosofici completezza non completezza meccanica meccanica importantistica corretta e sbagliata in linea di principio senza curarsi di esperimenti poi negli anni 50 e 60 c'è stata questa maggiore comprensione assimilazione da parte dei fisici di queste questioni e la loro traduzione in modelli matematici l'ho parlato delle eseguaglianze di Bell ma poi ci sono altri contributi che sono stati aderati per Bohm con la teoria dell'onda pilota per esempio siamo sempre negli anni 50 50 60 Bell negli anni 60 Bohm negli anni 50 poi è nate adesso ne parlerò l'informazione quantistica queste idee quindi questi modelli teorici sono stati utilizzati per tentare di fare qualcosa di pratico e per fare esperimenti gli esperimenti di Klauser Orn e Zeilinger di cui ho parlato prima e arriviamo adesso con le tecnologie quantistiche le idee di Einstein l'entanglement che è stato usato che è stato prima di tutto introdotto da Schrodinger a dire il vero ma è stato utilizzato in maniera profonda da Einstein inconsapevolmente probabilmente adesso diventa una tecnologia come diventa una tecnologia beh se un atomo in qualche modo può essere in una sovrapposizione qui più là perché la meccanica quantistica lo descrive con un'onda che può essere qui più là allora anche il bit classico di informazione l'unità fondamentale classica dell'informazione non deve essere necessariamente 0-1 ma può essere una sovrapposizione di 0-1 come il gatto di Schrodinger come l'atomo non è in uno stato definito ma può essere una sovrapposizione di stati e questo è il concetto fondamentale alla base dell'enteoria quantistica dell'informazione al posto del bit classico che ha solamente due valori possibili abbiamo il qubit il quantum bit ormai termine del 1996 se non sbaglio e coniato nel 1996 il quantum bit o accorciato il qubit la versione quantistica in cui oltre allo stato 0-1 ci possono essere tutti gli stati possibili di sovrapposizione che per ragioni matematicamente ben precise possono essere rappresentati come un punto sulla sfera quindi invece dei soli due punti invece di solo polo nord e polo sud c'è tutta la sfera che si può esplorare tutta la sfera di stati possibili prima ce ne sono solo due adesso ce ne sono infiniti poi l'infinito è in senso matematico perché bisogna saperli distinguere anche quindi dal punto di vista pratico non sono infiniti ma sono tanti ce ne sono tanti di più ce ne sono con tante possibilità che si possono aprire e queste possibilità cosa sono? sono il computer quantistico di cui mi soffermo un attimo quindi lo sorvolo un secondo perché ci ritorno adesso sono la comunicazione quantistica invece io di comunque io sto comunicando con voi attraverso internet e se andiamo all'essenza della comunicazione probabilmente è 0-1 tanti 0-1 se è digitale la comunicazione sono un tecnico dell'ingegnere delle telecomunicazioni ma sia digitale io la mia voce è trasformata in una sequenza rapidissima di 0-1 che viene trasmessa attraverso la fibra ottica e arriva a voi e viene ritrasformata in suono ma è 0-1 invece di fare la comunicazione classica faccio la comunicazione quantistica faccio la informazione viene codificata nei qubit invece che nei bit e si possono dimostrare che si possono fare tante belle cose tra cui si può fare la comunicazione sicura questo sarebbe un altro intervento simpatico da fare se io invece di fare la crittografia classica che funziona ma bisogna stare attento agli hacker posso fare la crittografia quantistica che non me ne frega dell'hacker perché posso dimostrare che è intrinsecamente sicura se io faccio se l'hacker tenta di bucare il sistema me ne accorgo interrompo butto via tutto non è possibile che l'hacker buchi il sistema senza che io me ne accorgo proprietà dei sistemi quantistici i sensori quantistici che usando queste sovrapposizioni sono capaci di osservare campi forze forze gravitazionali forze elettricche forze magnetiche estremamente deboli che un sensore classico non ce la fa e poi arriviamo poi ci sono altre cose arriviamo ai computer quantistici questo credit IBM è una foto presa da IBM sembra un lampadario più o meno di Murano invece un computer quantistico la tecca però mi dicono che la tecca in vetro è un design italiano il computer invece è IBM questo è un esempio tipico di sono tutti uguali computer a superconduttore prendete per buono cos'è un superconduttore adesso non posso spiegarvelo in modo fisico per implementare il qubit i computer quantistici sono in realtà questo è un computer quantistico il problema è che il numero di qubit il processore è ancora piccolo non ci sono abbastanza abbastanza qubit in cui codificare tante informazioni arriverà ma bisogna cominciare da qualche parte ancora è un sistema poco potente ma perché siamo all'inizio perché si parla tanto dei computer quantistici si parla tanto dei computer quantistici perché permettono di risolvere certi problemi in maniera estremamente più veloce di qualunque super computer classico quindi adesso c'è la corsa a quello che viene chiamato vengono i supercalcolatori supercalcolatori è di fatto adesso banalizzo e sono ingiusto verso chi li costruisce ma di fatto il vostro pc a casa è la stessa cosa solo estremamente più potente però è molto costoso fare un pc estremamente potente si fa e infatti supercalcolatori voi non avete a casa vostra non ce li hanno raramente anche le aziende solo le grosse aziende ce l'hanno Leonardo in Italia Pdn in America per dirlo esempio oppure i grossi centri di calcolo il Cineta Bologna che rappresenta tutto il consorzio delle università italiane che sta costruendo un supercalcolatore ma neanche le università le singole università ce le hanno così potenti perché sono molto costose ebbene il computer quantistico riesce a promette di essere ancora più potente nella risoluzione di alcuni problemi non di tutti e come fa? vediamo se riesco a trasmettervi il messaggio di come fa ad essere più potente beh è sempre questo gioco di onde supponiamo di prendere un problema che è un problema di ricerca io ho tanti elementi e voglio selezionarne uno l'esempio tipico che viene fatto supponete che vi venga dato il numero avete l'elenco telefonico vi viene dato il numero di telefono e voi dovete risalire alla persona che è intestataria di quel numero di telefono è un'impresa disperata andarlo a cercare in un elenco telefonico ma in più dovete scorrere mentre i nomi sono in ordine alfabetico i numeri di telefono non lo sono quindi dovete uno per uno andare a cercare il numero di telefono finché non lo trovate e associate e avete la persona ad essere associata qui è rappresentato in questo disegno è tutto grigio l'elemento cercato è quello rosaceo ebbene com'è che un computer quantistico riesce a velocizzare il procedimento di ricerca di un elemento in un database perché trasforma il problema classico in un problema quantistico è come l'atomo classico che può essere solo da qualche parte mentre l'atomo quantistico può essere in una sovrapposizione così con i dati i dati classici sono separati i numeri di telefono sono incolonnati così come i nominativi sono separati l'uno dall'altro quantisticamente io posso trattarli come onde che sono in una sovrapposizione ci ho messo il più dovete pensare a queste onde i dati diventano una gigantesca onda e ciascun pezzettino rappresenta uno dei dati e allora quando ho i dati io posso giocare quando ho le onde io posso giocare con queste onde le posso far salire e le posso far scendere lo dico in termini un po' che sembrano poetici ma è quello che succede tra l'altro questi disegni rappresentano sono la rappresentazione grafica esatta fedele dell'algoritmo matematico di ricerca quindi non è una un modo allegorico di presentare la cosa è esattamente così che vanno le cose come la presento io sembra un po' poetici ma è per eliminare i termini tecnici io ho queste onde e con opportuni modi che dal punto di vista sperimentale vuol dire agire con un laser sul sistema fisico posso far salire certe parti dell'onda posso far scendere certe parti dell'onda posso ribaltare l'onda pensate di buttare tanti sassi nell'acqua e creare questi giochi finché giochi non li fate a caso li fate in maniera tale da massimizzare l'onda sul risultato cercato l'onda è assume il valore più alto dove è la risposta corretta al problema andate a guardare e avete la risposta questo è come funziona un computer quantistico è veramente in un senso matematico ben preciso come un mare in cui voi gettate tanti sassi per creare questo gioco di onde e lo potete fare perché ci sono onde se voi aveste invece del mare aveste della sabbia buttate dei sassi finiscono lì e in qualche modo insomma ripeto è un po' una suggestione ma c'è del vero quello che sto dicendo è la differenza tra computer classico e computer quantistico la maestria di certe persone è stata quella di Schor Deutsch e tanti altri dimostrare che se abbiamo onde invece di particelle possono risolvere certi problemi computazionali più velocemente che nel caso classico questo è la tecnologia che sta emergendo che sta avviando quindi da la meccanica quantistica completa o incompleta dov'è il gatto è vivo o morto è qui o là e Paoli che dice chi se ne frega deve la mentella di Einstein siamo arrivati a oggi ai computer quantistici con questo è finito vi ringrazio dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti